tutti loro che sto bene il quinto il quinto brano che abbiamo ascoltato in questa esibizione live in questo sabato 3 maggio 2014 come vuole il calone era ieri che era settembre e adesso siamo già al 3 di maggio a parte il fatto che è passato il primo maggio possiamo anche parlare di estate diciamo a ragion veduta e se parliamo di estate possiamo anche dire che finita l'estate ricominceremo col natale vero vero quindi praticamente preparatevi al natale io direi però prima di proseguire con il natale questi discorsi molto sensati e forse anche lungimiranti la grande astuzia storica di alessandro piermarini d'altronde lo precede io andrei se tu sei d'accordo ad ascoltare l'ultimo brano in scaletta per quello che riguarda il live di galoni qui a radio rock il prezzo delle arance questo cuore avvolto nella carta dei giornati ad ogni ramo avverso mi offenderà le guance lieviteranno i prezzi delle arance mentre l'africa ci insegna ad essere più allegri i croci fissi cadono sulle cattedre dei previ discreto peccatore un peccatore intelligente vuoi vedere più a meno chi bestemmia veramente per studiare geografia c'è una linea lampedusa sopra il ventre della bestia sotto una camera di attesa tutti i compiti ereditari dei propri territori ma la terra partorisce solamente minatori vedrai diffondere la pace con le armi se non morirai se non morirai di sete in mare aperto troverai anoressici tra i porci ma non troverai le squadre materasso clamorosa il cibali è un ricordo collezioniamo molte paraboliche idee per aiutare il mezzogiorno tra Milano e il centro delle cronache potrai vedere come cadono i governi mentre invecchieremo in cerca di un parcheggio imputati e letti presidenti colpa di chi difende ancora il catenaccio e cresceranno i prezzi delle arance e mai faremo un viaggio in Medio Oriente e compriremo solo nelle acerbe o senz'altro da manati d'Occidente si pensi qualche retalia a se testa Grazie a tutti. Grazie a tutti.